Cuneo, siamo in compagnia di Iole Ruzzini nel giorno della presentazione del Cuneo Granda Volley. Allora, prime sensazioni su questa giornata, ma soprattutto su questa prima settimana di allenamento in questa nuova squadra, questa nuova realtà. Sono molto felice di essere a Cuneo perché fin da subito mi sono sentita come a casa. In palestra stiamo lavorando bene, con le ragazze stiamo divinamente. La cittadina poi è fantastica, tutte sensazioni positive, pensiamo a lavorare giornata dopo giornata e non vedo l'ora che il campionato inizi. Quanto sarà importante trovare velocemente l'amalgama perché ovviamente è una squadra al 95% nuova e quindi ci vuole il giusto tempo per trovare l'intesa fra le giocatrici in un campionato che comunque è veramente difficilissimo. Diciamo che la sintonia e l'amalgama arriva continuando ad allenarsi come stiamo facendo giornata dopo giornata. Questo è il periodo della preparazione molto importante all'aspetto fisico e di pari passo arrivano gli allenamenti, e quindi si inizia a conoscersi in palestra, a lavorare sempre divertendoci col sorriso e le cose piano piano arrivano. Secondo te cosa dovrà metterci Cuneo per fare un campionato da protagonista, comunque per raggiungere gli obiettivi? Primario ovviamente è la salvezza, però per fare un buon campionato. Io credo fortemente nel lavoro in palestra, nel momento in cui si lavora bene, col sorriso, divertendoci, mettendoci la giusta energia, durante la settimana i risultati e le soddisfazioni arrivano. È un gruppo bello, un gruppo forte, sorridente, ci divertiamo ma contemporaneamente lavoriamo sodo. Io sono convinta che potremmo toglierci delle importanti soddisfazioni continuando su questa strada che è quella giusta. Allora grazie e buona soggiore. Ciao a tutti!